Ciao amici, eccoci arrivati finalmente all'ultima fase della composizione. Sto lavorando sull'immagine rollingfruit.tif, ma se avete creato la vostra immagine potete continuare a lavorare con essa. Come vedete ci sono molti dettagli da curare, come le luci, i bordi della frutta, si vede che sono state incollate sopra uno sfondo che non gli appartiene. Però a noi non importa. Ora sfocheremo tutto e non si vedranno più i difetti. Se non state lavorando nella tavolozza dei livelli, selezionatela e fate clic sul livello in cima. Yellow apple. Con lo shift premuto facciamo clic sul livello RR qua sotto. A questo punto facciamo clic su questo menu a comparsa e scegliamo la voce Unisci livelli. Questa opzione la troviamo anche nel menu livello, oppure possiamo fare semplicemente Command o Control E, come preferite. Ora abbiamo unito tutti questi livelli in un unico livello. A questo punto possiamo dare un senso di movimento a tutto il livello utilizzando un filtro di sfocatura. Andiamo sul menu Filtro, Sfocatura, Sfocatura radiale. Impostiamo il fattore a 25. Come metodo di sfocatura scegliamo Zoom. La qualità consiglio di impostarla migliore, ma non è indispensabile. Soprattutto se il vostro computer è un po' attempato, perché Photoshop potrebbe impiegare un po' di tempo per portare a termine questa operazione. Come centro sfocatura cerchiamo di spostarci più o meno dove si trova la mela gialla. Non serve essere molto precisi. Basta una cosa indicativa, più o meno così. Diamo l'OK e aspettiamo che termini l'operazione. Ed ecco fatto. Abbiamo dato un po' di movimento alle mani ed alla frutta. A questo punto vorremmo salvare la nostra composizione conservando i livelli ed i canali. I due formati migliori per salvare le immagini sono il PSD e il TIFF, che consentono di comprimere i canali per risparmiare dello spazio sul disco. C'è anche la possibilità di salvare l'immagine con i canali, e solo con i canali, nel formato JPEG. In realtà si chiama JPEG 2000 e Photoshop non ci consente di salvare in questo formato senza avergli installato un plugin che si trova nel DVD di installazione di Photoshop. Tuttavia, il formato JPEG 2000 non è supportato da diversi browsers e per questo non viene utilizzato, ad esempio per la grafica web. Il mio formato preferito rimane il TIFF, perché il formato PSD che è nativo di Photoshop è ottimo quando nell'immagine abbiamo diverse composizioni di livelli, ma non oltre. Se andiamo nel menu File, Salva con nome, abbiamo diverse opzioni a disposizione. Lasciamo il formato TIFF. Più sotto abbiamo la possibilità di scegliere se salvare l'immagine come una copia di questa, se mantenere i canali alfa, i livelli ed altre cose. Manteniamo i canali alfa ed i livelli. Scegliamo una posizione di salvataggio, in questo caso io non la cambio, e procediamo. Nominiamo il file Final Composition e facciamo clic su Salva. Dove se no? Bene. Prima di terminare il salvataggio, Photoshop ci chiede ulteriori informazioni relative al formato TIFF. Scegliamo compressione LZW, che ci permette di risparmiare spazio perché comprime i canali ed è un tipo di compressione senza perdita di dati. Quindi si tratta di una compressione che non danneggia l'immagine, per cui si può scegliere. Il resto lo possiamo lasciare invariato, non importa se mettiamo un ordine di bit per IBM o per Macintosh. Io ad esempio lascio PCBM pur usando un Macintosh e non avrò mai problemi ad aprire questo file in nessuna piattaforma. A questo punto possiamo dare l'ok e salvare la nostra immagine. Molto bene. Con questo concludo il corso sui canali e sulle maschere. Ci vediamo nell'ultimo video per i saluti. Domani non perdetevelo. Ciao a tutti!